Amo! E ora? Ehi, fanno i news della settimana! Konichiwa, ben ritrovati alle 4K news of the settimana. Eccomi qua. Pronto. Sempre pronto sono. Eccomi qua. Ben ritrovati anche questa settimana. Ma partiamo subito con le 4K news della settimana con un mega annuncio. Ragazzi, io sono contentissimo che per la Studio Canale in Francia e sicuramente anche altri paesi perché è Studio Canal, uscirà una storia vera. Il film di David Lynch, il bellissimo film di David Lynch, uscirà in 4K. Sicuramente ragazzi, non ci sono ancora le specifiche tecniche, ma sicuramente avrà il Dolby Vision. E, scusate al fiatone, tutta questa disavventura è stata... E da noi è distribuito il 1080p da Eagle. Quindi Eagle prende Studio Canal. Quindi dai ragazzi, quasi sicuramente arriverà anche da noi. Comunque, se siete interessati, Francia data 17 aprile. Continuiamo con un altro filmone ragazzi. Oggi è la settimana delle super mega news of the settimana. Uscirà, nato il 4 luglio, il film di Oliver Stone con Tom Cruise che io volevo rivedere. E' uscita anche la versione della Turbine con l'Auro 3D, non l'Atmos, solo l'Auro 3D. E' uscita la loro versione anche in 1080p. Ma, ragazzi, io sempre rivedere il film con il master vecchio mi viene male. Però adesso esce in 4K in Francia per l'Atelier Images. Uscirà per loro il 16 aprile 4K Dolby Vision. Dato che il film è Universal, ci aspettiamo un'edizione Universal. Non lo so, io la vedo male. Perché solitamente quando prendono i diritti di Paramount, Universal, poi la Universal o Paramount non lo fanno loro il 4K. La vedo dura, la vedo dura, ragazzi. Però speriamo, magari anche la Turbine o qualche casa UK inizierà a farlo, anche in America. Coraggio, ragazzi, è nato il 4 luglio. Cazzarola, io sto aspettando di rivedermelo bene. E devo vedermelo col master vecchio 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 pieno di filtri. No, comunque, il 16 aprile in Francia Dolby Vision per l'Atelier Images. Ma saltiamo al 19 marzo. Non è l'uscita, non sono l'uscita. Cioè, il 19 marzo esce il gran bel film di Sottomarini. K19, il film con la regina di Catherine Bigelow con Harrison Ford, il nostro carissimo Indy. E Liam Neeson uscirà in 4K per la Shout Select, ovvero Shout Factory, insomma, la Shout in America. Avrà Dolby Vision. Non si sa ancora che tipo di audio avrà. Ma questo è un gran bel film che noi abbiamo. Siamo rimasti. Cioè, ogni tanto, quando vado a esplorare le... Cioè, i formati in cui è uscito il film da noi, dico, ma sicuramente è uscito il Blu-ray. Sono solo io, cretino, che non l'ho recuperato. No, non c'è in Blu-ray K19. Quel filmone che al cinema era bellissimo. L'audio multicanale è stato bellissimo. Da noi era uscito ed è rimasto in DVD che è uscito nel 2005 per la 01 con l'audio italiano, ma anche inglese. Era in DTS e con numerosi extra. E poi ho riuscito nel 2021 per la CG in 2.0, anche in inglese, senza extra, in DVD. Cioè... Devo prepararmi a sbattere qualcosa di più grosso quando... Amore, la prossima settimana mi serve qualcosa di più grosso. Dobbiamo organizzarci. Non è abbastanza per quando mi incazzo questo. Comunque, America, 19 marzo. Questo se nessuno annuncia niente in Italia. Se magari mi rifanno un Atmos. Cioè ci starebbe proprio bene qua dentro il sottomarino. Quale miglior occasione per fare un remix in Dolby Atmos dentro il sottomarino? Sarà una figata. Ma continuiamo con il remake di Carrie che conosciamo tutti e che ha avuto una bella gestazione perché il film che è uscito e che c'è su disco anche da noi non è veramente la versione preferita del regista. Mancavano 40-50 minuti di film. Se ricordo bene, adesso ci sono dei fan che stanno anche chiedendo, e arriviamo a collegarci con la news, poiché la Screen Factory lo farà uscire in 4K il 19 marzo con il Dolby Vision e moltissimi fan del film gli stanno scrivendo per chiedergli di inserire anche una fatidica nuova director's cut con le scene tagliate. Comunque i fan stanno chiedendo questa fantomatica, presumo nuova, che la vogliono nuova, extended cut del film mai fatta, mai fatta, sì mi ero scritto qua, mai fatta, quindi non l'hanno mai fatta prima. 19 marzo per il remake di Carrie con la Screen Factory. Ragazzi se non dico Dolby Atmos, lista degli extra all'interno è perché non ci sono ancora i dettagli dell'edizione, ok? Quindi mi fermo alla news che il film uscirà. E anzi, sono già partiti pre-order, sia di K19 che anche di Carrie da Maddon, cioè in America. Sono partiti pre-order. Ma cosa uscirà sempre per la Shout in 4K? E guardate che filmetti che tira fuori la Shout! Wow! La Shout! Il 12 marzo uscirà il film con Tom Selleck, che io ho visto da piccolino in VHS, l'avevo onoraggiato i miei genitori, non l'ho mai più rivisto, però mi era rimasto in test. No, forse l'avevo visto su Rai 3 ancora da piccolino, perché noi siamo rimasti al DVD del 2003 per questo film, ovvero Carabina Quigley con Tom Selleck, che a me piaceva da piccolino. Sì, ce l'avevo registrato su VHS, ce l'avevo. Poi il DVD non l'ho mai comprato, quindi sono anni, anni, anni che non lo riguardo questo film. Ma comunque uscirà in 4K, cioè quanti titoli che non ti aspetteresti che escono all'estero? Quanti, cioè... Vedete? Non funziona, non funziona. Altra news uscirà per la Paramount, me lo sono scritto il 2 aprile, la Major League, la squadra più scassata della Lega. Il film con Tom Berenguer e Charlie Sheen uscirà in 4K per la Paramount in un'edizione Steelbook carina, un po' Collector Edition. Non ci sono delle card dentro, mi sembra che ci sono delle card dentro. Comunque una bella Steelbook e uscirà anche da noi Dolby Vision, ovviamente avrà il Dolby Vision, uscirà anche da noi. Ho chiesto e c'è un punto interrogativo. Non si sa ancora se arriva anche da noi. Non si sa ancora. Anche perché noi siamo rimasti... Oggi è la puntata del noi siamo rimasti anche. Per questo film siamo rimasti al DVD. Comunque siamo rimasti al DVD. Va bene. Comunque dovrebbe uscire anche in Germania questo 4K, l'hanno messo nei pre-order. Quindi esce in Germania, ci ficcano l'italiano. Magari da noi non lo so, erano usciti due DVD diversi da due case diverse. Quindi chissà i diritti della traccia italiana. Chi lo sa, vediamo cosa succede. Però per questo c'è ancora un punto interrogativo. Ma cosa uscirà anche per la Screen Factory? Potevo inserirlo nel gruppo della Screen Factory. Uscirà il 19 marzo la bambola assassina in Dolby Vision. Ma non quello che ho già io in 4K della Scream. No, il remake con la bambola doppiata da Luke Skywalker, Mark Hamill. Uscirà anche quello. Ancora gli extra saranno sicuramente i vecchi ragazzi. Insomma, quando guardi una news più o meno riesci a capire quali saranno gli extra. Però non ci sono ancora delle conferme. Quindi io non dico niente. Dico solo la news. Dico solo la news. Ma cosa farà uscire la Paramount il 26 marzo con Dolby Vision? Ragazzi, nuovo Master 4K come Major League. Quelli che ho detto prima. Cosa uscirà? Schegge di paura. Brrrr. Con Richard Gere e Edward Norton. Un gran bel film. Veramente un gran bel film. E posso dire che uscirà anche da noi. Questo posso dirlo. Uscirà anche da noi. Schegge di paura per la Paramount. Non vi so dire la data ragazzi. Non c'è cosa. Però uscirà anche da noi. Questo esce anche da noi. Lo posso dire. Ma chiudiamo le 4K news della settimana con... Così fan tutte. Il film di Tinto Brass uscirà in 4K per la Cult Epics in America il 26 marzo. Nuovo Master da negativo originale Master 4K. All'interno ci sarà il 4K e il 1080p per ciascun disco gli stessi extra. Tutti curati da Eugenio Ercolani. All'interno un nuovo commento con Eugenio Ercolani e Troy Howard. Una intervista a Tinto Brass del 2001. Scene tagliate. Fotogallery. Trailer. E anche un booklet. Lo so che è brutto che guardo qua. Però devo leggere. Non mi ricordo. Un booklet di 20 pagine con dei saggi di Eugenio Ercolani e Domenico Monetti. E chiudiamo con le 4K news off the settimana. Ah, i pre-order per Così Fan Tutte che uscirà il 26 marzo partivano dal 20 febbraio. Ma Amazon.com è già partito con i pre-order. Quindi se andate su Amazon.com sono già partiti loro con i pre-order. Ma comunque chiudiamo le 4K news della settimana e io adesso torno a giocare alla Play. Ma mezz'oretta perché mi sveglio presto. Oggi che ho registrato il video. Venerdì domani mi sveglio prestissimo. Quindi devo andare a dormire. Una partitina alla Play. Proprio. Una piccola sparatina. Tanto per ricordarmi il ragazzino che ero. Che una volta a video giocavo molto di più. No, gioco anche adesso dai ragazzi. Meno. Con i film eccetera. Insomma. La giornata di 24 ore è quella. Quindi più roba metti da fare all'interno della giornata. Meno hai tempo da fare altre cose. Comunque ragazzi. Guardate Ciacchi. Guardalo qui. Devo ancora registrare l'unboxing. Devo ancora registrarlo. Ma ragazzi. Noi ci vediamo domani. Ovviamente perché questo video esce sempre di domenica. Noi ci vediamo domani con una nuova fantastica. Grandissima. Grandiosa. Meravigliosa. Stupenda. Moderna. Figa. Faiga. Sto cercando altri aggettivi ma non ne trovo. Supercaggi fragilisti. Che spirali. Dosa. Puntata. Recensione di Into the 4K. Domani. Mi raccomando ragazzi. Iscrivetevi al canale. Dovete iscriv... Dovete. Fate quello che volete. Ma se volete supportare. Iscrivetevi al canale YouTube. Qua mettete mi piace. Condividete. Iscrivetevi al canale. Se volete che YouTube vi ricordi dell'uscita dei miei video. Cliccate pure sulla campanellina. Lo so. Lo dicono tutti. Io mi rompo le balle a ripetere sempre le stesse cose. E poi c'è anche il canale Telegram e Whatsapp. Oltre a Facebook, Instagram, TikTok. Che cago poco. Non sono così social da fare. I filmatini. Wow. Pandori. Non sono così social. Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Sono fatto così ragazzi. Ma. Iscrivetevi ai canali Telegram e Whatsapp. Perché appena parte un preorder. Appena c'è una news. Appena becco uno sconto. Ed amazzo. Ragazzi. Gli sconti fan cagare. In sto periodo. È un bel periodo che fan cagare gli sconti. Quindi. È inutile che metto sempre gli stessi link. Cioè. Sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi. Cioè. Sempre. Però. Se volete rimanere aggiornati sui preorder. Comunque. Quando becco qualche bello sconto. O una news. Fresca. Proprio. Fresca. Iscrivetevi al canale Telegram. E Whatsapp. Trovate tutto qua sotto. Ragazzi. Nella descrizione. C'è tutto qua sotto. Tutti i collegamenti. C'è anche l'indirizzo di casa mia. Il telefono. Le bollette da pagare. C'è proprio l'Ibang. Potete fare un versamento. Potete fare. Stavo per ruttare. Potete fare quello che volete. Torno a giocare alla play. Quindi. Sayonara a tutti. E bye bye. Ciao. Ciao.